Bruno Editore presenta la pianificazione aziendale, gli strumenti per risparmiare, aumentare il fatturato e rendere la tua impresa più competitiva, di Patrizio Gatti. Introduzione Per compiere grandi passi non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere. Anatole Franz Con questo e-book mi propongo di svelarti i segreti del mondo della pianificazione e della programmazione aziendale e di spiegarti i vantaggi che sia tu che la tua azienda ne potrete trarre. Proprio così, tu per primo otterrai dei benefici. Sarai infatti in grado di fare previsioni sulle conseguenze delle decisioni che prenderai per la tua azienda. Saprai in anticipo cosa comporteranno le tue scelte. Non sarai vittima degli imprevisti e potrai dormire sonni più tranquilli. Ti sembra un vantaggio da poco? Se applichi gli strumenti della pianificazione, budget e pianificazione cash flow e controlli ciò che deriva dal loro utilizzo, avrai dei benefici sicuri, ovviamente anche a livello aziendale. Le gestioni economica e finanziaria, se programmate in anticipo, faranno infatti sì che tu sappia quali passi compiere per arrivare ai traguardi prestabiliti in sede di budget. In questo e-book inserirò esempi pratici già applicati in azienda, evitando approfondimenti solo concettuali. Intendo rivolgermi, infatti, a tutti coloro che vogliono imprimere una svolta alla gestione della propria impresa, cercando di pilotare gli eventi per raggiungere gli obiettivi prefissati e hanno pertanto bisogno di ottenere risultati concreti. Rivadisco in questo manuale, come in ogni corso formativo che tengo, che per ottenere dei buoni esiti occorrono impegno, determinazione e giuste strategie. Buona lettura! Patrizio Gatti Dedicato ai miei figli Andrea, Nicola e Francesca Grazie a tutti!